In occasione della giornata mondiale delle malattie rare, Bluebird Bio, azienda biotech impegnata nel campo della terapia genica, insieme alle principali associazioni di pazienti e ad alcuni esperti scientifici, racconta in un cortometraggio le esperienze personali dei pazienti che in Europa convivono con la betatalassemia, una malattia genetica ereditaria rara del sangue. Protagonisti sono nove pazienti di età compresa tra i 4 e i 61 anni di diverse nazionalità, storie di convivenza quotidiana in diversi contesti come la scuola, il lavoro e il tempo libero per favorire una maggiore conoscenza di questo mondo. La betatalassemia è una delle malattie ereditarie del sangue più comuni a livello globale. L'incidenza nella sua forma sintomatica è di una persona su 100.000 in tutto il mondo e uno su 10.000 in Europa. Nonostante la talassemia sia più frequente tra le persone di origine mediterranea, medio orientale, sud-est asiatica e africana, gli spostamenti della popolazione a livello globale hanno determinato la diffusione della malattia in tutto il mondo. Grazie per la visione!